C'è sicuramente soddisfazione per questa bellissima vittoria, c'è soddisfazione per aver tenuto la Reggio Emilia sotto i 70 punti e in questo momento qua la difesa è la chiave delle nostre partite, della nostra aggressività, i nostri cambi sulle situazioni di blocchi, quindi stiamo trovando vantaggio e la solidità difensiva ti dà la possibilità di giocare una partita anche con fiducia e soprattutto ti dà la fiducia in quei momenti dove magari le tue percentuali si abbassano, chiaramente per merito anche degli avversari, quindi sono contento di aver avuto ancora questo grande apporto dalla fase difensiva. In attacco siamo andati un po' alti e bassi nell'arco della partita, abbiamo avuto momenti di grande fluidità e anche di ottime percentuali di tiro, altri momenti un po' meno dove siamo stati un po' poco anche disciplinati nell'eseguire alcune situazioni, siamo fatti prendere un po' dalla fretta, questo l'avevo detto anche ai ragazzi nell'intervallo e nella seconda quarta di partita, soprattutto a cavallo tra il terzo e il quarto quarto, siamo stati bravi lì a fare il break, a chiuderla la partita, quindi dice che tutto sommato sono molto contento e soddisfatto, siamo alla sesta giornata, è vero 6 vittorie, però la strada è ancora lunga, quindi vogliamo continuare a lavorare e soprattutto a crescere come squadra, come qualità di gioco espresso in campo. Crediamo sicuramente in noi stessi, crediamo nel nostro gruppo, nel nostro lavoro quotidiano, crediamo in noi perché è una bella atmosfera che ti respiri quotidianamente, quindi c'è grande sintonia tra staff, squadra, società e oggi chiaramente anche i tifosi che ci danno sempre un grande apporto e quindi crediamo in questa squadra fortemente, crediamo in questo lavoro che stiamo facendo e vogliamo andare avanti per la nostra strada e continuare sicuramente.